Ecco, guardiamo come si usa il righello. Questo è un righello che voi dovete mettere sul tavolo ed è molto utile ed sarà facilissimo scrivere le coppie che danno il numero 2. La prima coppia è 0 e 2. 0 più 2 infatti è uguale a 2. Poi la seconda coppia è 1 più 1 uguale a 2. La terza coppia è 2 più 0. Sempre 2. Qui le coppie le ho scritte. 0 e 2. 1 e 1. 2 e 0. Le ho scritte anche qui a fianco al muretto. Vi ricordate i muretti? 0 più 2. 1 più 1. 2 più 0. Queste tre addizioni dovete impararle a memoria. 0 più 2 è 2. 1 più 1 è 2. 2 più 0 è 2.